Muoversi, camminare, correre, scoprire, parlare, costruire, amare, sognare. I verbi che coniughiamo con la nostra vita rivelano e disegnano la nostra identità. Ma quali sono allora i verbi di Dio, le tracce del suo agire nella storia, i lineamenti del suo volto? È Cristo, il verbo di Dio, che rivela i verbi preferiti del Padre. Il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre, dice Gesù. Quello che il Padre fa, anche il figlio lo fa. Guardiamo a Lui allora, al figlio, e contempleremo il mistero stesso di Dio. Grazie.